Ciao a tutti e benvenuti in Tessiland News. Ogni creazione è unica nel suo genere e questo dipende molto dalla scelta del filato. Ecco quindi che Tessiland propone in esclusiva made in Italy il nostro cordino Thai Skinny. Si tratta di un cordino ideale per quelle creazioni eleganti che magari richiedono punti più elaborati e quindi una sottigliezza del filo. Ma analizziamolo prima nel dettaglio. Ecco il nostro Thai Skinny. Allora anzitutto si presenta in rocca da circa 200 grammi ed è composto da poliestere e poliamide. È proprio quindi questo mix di materiali che consente il massimo del comfort nella lavorazione sia di borse, pochette ma anche di accessori, data proprio la sottigliezza del filo. Infatti il diametro si aggira intorno ad un millimetro e mezzo proprio per garantire l'esecuzione di punti raffinati e infatti è indicato l'utilizzo di uncinetto 2-3. La cartella di colori poi è garantita nei continui riassortimenti e quindi è proprio questo che ne fa un prodotto di punta della collezione Tessiland. Vediamo quindi la colorazione salvia, beige, panna e rame. Passiamo adesso ai 4 luminosi wine, glicine, avion e giada. Ecco adesso il rosso, blu, cipria e tiffany. Immancabili poi il grigio, il bianco ottico, l'argento e il nero. E chiudiamo in bellezza con un bel arancio fluo e verde fluo. Come avete visto la particolarità sta proprio nell'alto standard qualitativo che contraddistingue del resto tutta la gamma del nostro cordino thai italiano. In questo caso però con il cordino thai skinny il vantaggio sta proprio nella sua struttura, come avete visto molto sottile e quindi ciò consente di realizzare quelle pochette ma anche altri tipi di lavorazioni come accessori o tanti tipi di borse che richiedono dei punti più elaborati e quindi ottenendo così un lavoro molto raffinato. Ad esempio se si vuole realizzare una pochette con punto nocciolina sicuramente il thai skinny è quello che fa per voi. Ma non mancano le idee e in questo caso sempre la nostra grande è fatta tuttofare ci mostra come è possibile anche lavorare questo tipo di cordino a doppio. Lo unisce infatti ad un nostro altro filato molto luminoso che è il rowen e in questo caso esalta tutta la bellezza del thai skinny nella sua pochette sweet gold. Quindi non vi resta che visionare il tutorial e cimentarvi. Io nel frattempo vi ringrazio per averci seguito. Vi ricordo di iscrivervi al nostro canale YouTube e di attivare la campanella per non perdervi le nostre novità Tessiland. Ciao!